Ora! Bravo! Ci hai salvati! Grazie Lampo! Prego, non ce l'avrei mai fatta senza di tutti i miei amici mici. Ehm, Lampo? La regina vuole vederti? E allora, che stiamo aspettando? Andiamo! Vostra maestà, permettetemi di presentarvi per l'investitura onoraria a Cavaliere del Regno Britannico. Lampo dei baffiche! Stendili, amico! Io ti nomino Cavaliere, Sir... Lampo! Well done! Li riporteremo tutti a casa! Oppure, potete ricordarvi che io ho raggiustato la macchina con questo! Cosa hai in mano, boss? Questo qua può riaccenerare la macchina di Winston. Ma ho distrutto la macchina, ma... Aspetta, tu hai usato questo coso? Quando è caduto insieme a te... Si è uscito fuori. Sì, e adesso... Lo riaggiusterò. Ecco, permesso... Ehi, boss! Sì... Sì... No! Questa la prendo io. Questa andrà al museo. Guardi... Devo andare. Lo prenderanno. Sei sicuro? Che cosa hanno fatto la polizia con questo? Beh, l'hanno riportato a casa. Oh... Forza! Torniamocine a casa. Aspettiamo il torno di Nonna Pina. E mettiamo questo coso... Nel museo... In... Zona espositiva dove boss non può rubarla. Chi è con me? Questo mi sembra un'ottima idea. Lampo. Sì, andiamo! Forza! Torniamo a casa! Torniamo a casa! Torniamo a casa! Grazie a tutti.